Cari amici telespettatori, benvenuti, siamo di nuovo qui dallo splendido studio del gruppo editoriale distante, il nostro studio astronave, oggi vestito di rosso e di nero, perché noi siamo sempre con il colore rosso nello studio perché è il colore del teatro, è il colore dell'arte, ma è anche il colore che ha contraddistinto, il rosso e il nero che ha contraddistinto la carriera di un grande campione, oggi abbiamo il piacere e l'onore di avere con noi per parlare di calcio e non solo uno dei difensori italiani più forti che hanno vestito la maglia del Milan, diamo il benvenuto ad un amico, diamo il benvenuto, lasciamelo dire, al grande Filippo Galli, benvenuto Filippo! Grazie, grazie Alvise, grazie a tutti voi, grazie per l'invito e grazie per questa bellissima presentazione, direi un po' esagerata, ma va bene, me la prendo tutta, grazie! Filippo, la cosa che ho sempre apprezzato di te, ed è una nota di merito per chi segue il calcio, perché come tu sai Churchill diceva che gli italiani vanno ad una partita di calcio come fosse una guerra, e vanno alla guerra come fosse una partita di calcio, è sempre stata la tua capacità di saper posare le parole giuste nel momento giusto, in un calcio che a volte richiama, soprattutto oggi, a scontri dialettici, a problematiche, eccetera, eccetera, tu sei stato un campione trasversale, nonostante tu abbia vestito diverse maglie, tra cui quella del Milan per tanti anni, sei stato il predecessore di Costa Curta e uno splendido compagno di merende di Baresi, sei stato sempre apprezzato anche dai tifosi delle altre squadre, questa è una qualità che oggi si è persa nei giovani calciatori? Beh, diciamo non completamente, credo che sia giusto, io mi sento rosso-nero ovviamente fino in fondo, però credo che poi ciò che conti sia il rispetto degli avversari, il rispetto di coloro che poi incontri in campo e anche al di fuori del campo, poi ovviamente ci possono avere idee divergenti, pensieri divergenti, però poi tutto deve rimanere all'interno dell'educazione e del rispetto reciproco, anche magari scaldando gli animi, se vogliamo, però credo che poi si debba sempre dare spazio all'avversario, perché poi l'avversario è quello che, come posso dire, dà valore a quello che sono i tuoi risultati, a quello che è il tuo percorso, a quello che è il tuo progetto che stai portando avanti, qualunque penso sia. Nel Milan, Filippo, venendo alla squadra che ha segnato in maniera indelebile la tua carriera, nonostante tu abbia giocato tanto e abbia avuto anche una bella esperienza, io parlo di esperienza di vita naturalmente in Inghilterra, nel Watford, la squadra che fu del grande Elton John, almeno inizialmente. Nel Milan c'è una qualità grande da parte di Gazzidis, questo dirigente sudafricano che ha portato una mentalità europea, ma ha riscoperto il talento italiano, cosa che magari tanti dirigenti italiani non fanno. Io sono orgoglioso di poter dire, ad esempio, che nel Milan gioca Romagnoli, che è un giovane difensore italiano, capitano del Milan e che probabilmente raggiungerà dei traguardi e delle vette forse impensabili, considerando il primo approccio alla realtà milanista. C'è Calabria, un ragazzo dal cuore d'oro, educatissimo, lanciato in teneretà e che oggi è vicinissimo se non ha già rinnovato il contratto, c'è Donna Rumma, il primo portiere Millennials che ha già tantissime presenze e ci sono tanti e tanti ragazzi italiani. Ecco, questo per me è un bel messaggio che racconta cos'è il Milan. Il Milan nasce su una difesa tutta italiana, Galli, Tassotti, Baresi, Costa Curta, Seba Rossi. È tornato un po' a quel il tuo Milan. Diciamo che si può sicuramente fare un parallelo rispetto a quei tempi, anche se forse allora il gruppo di ragazzi, come dicevi tu, che arrivava dal settore giovanile era ancora più folto. Quest'anno al Milan sono rimasti Donna Rumma, ovviamente credo che sia uno dei migliori, se non il migliore portiere in Europa, comunque tra i migliori. C'è Calabria, c'è Gabbia, ci sono, adesso Colombo è andato via, c'è il figlio di Paolo Maldini, insomma, diciamo che indubbiamente è una squadra molto giovane, si avvale anche di giovani che sono stati in maniera oculata scelti in Europa dall'ottimo Massara e chiaramente da tutto quello che è lo staff tecnico, a partire da Massara, Maldini, insomma, direi che è un gruppo di lavoro che davvero sta dimostrando di saperci fare. E poi il fatto di avere un gruppo di italiani, come dicevi tu, a partire da Romagnoli, il capitano, questo aiuta a dare un senso di appartenenza e credo che anche Gazzidis abbia, come posso dire, capito questo valore, giustamente lui ha portato, come dicevi tu, un taglio, chiamiamolo così, passatemi il termine, anglosassone, no? Nella modalità di gestione del club, d'altronde la proprietà è un fondo, Elliot è un fondo americano, però diciamo che il connubio di queste cose aiuta, ha aiutato il Milan a ritrovare la strada dopo diversi anni che si era un po' sbarrita ed è tornato a grandi livelli che ovviamente sono poi supportati da risultati sportivi in campo, perché oggi il Milan, insomma, è una realtà importante del nostro campionato. Tu oggi sei dirigente sportivo, hai un occhio di riguardo sempre per tutto ciò che riguarda il settore giovanile, sei sempre stato molto attento alla politica dei giovani, ovunque tu hai avuto modo di essere impiegato, ovunque tu abbia lavorato, hai sempre mostrato attenzione per i giovani. Io sto notando una cosa, correggimi se sbaglio, nel Milan del passato c'era Galliani, che tutto è stato meno che un grande calciatore, sicuramente un grande dirigente, c'era Luciano Moggi, che tutto era meno che un grande calciatore, c'erano grandi dirigenti che non sapevano realmente cosa provasse un calciatore. Oggi invece iniziamo a vedere che i grandi talenti, i grandi giocatori della tua età o anche più giovani, sono diventati dirigenti Maldini, Nedved, Tare, stiamo vedendo tanti ex giocatori che si cimentano dietro la scrivania. Questa è una bella notizia, anche per Cassi stesso. Direi che non deve essere la regola o non è necessariamente la regola, perché poi credo che sia importante avere delle competenze. Il fatto di aver giocato ad alti livelli può essere un aiuto, può essere d'aiuto, ma non è detto che lo sia fino in fondo. Io credo che chi ha vissuto certi spogliatoi, come si suol dire, possa avere dei vantaggi, chi ha vissuto certe tensioni, certi momenti alti in grandi club o comunque nei club, possa avere una lettura più facile delle dinamiche, però poi c'è la necessità di mettersi a studiare, a capire, avere la volontà appunto di comprendere come sia completamente differente stare al di qua della scrivania piuttosto che al di là, quindi stare in campo. Da questo punto di vista credo che poi sia importante avvalersi nel momento in cui magari le competenze c'è tempo per poterle acquisire di persone, di uno staff che sia all'altezza. Io credo che quindi anche la capacità di ascolto sia una delle caratteristiche che un buon dirigente debba avere e quindi è un po' un mix. Io non sono per l'ex giocatore a tutti i costi che debba essere all'interno della compagine dirigenziale di un club, però è indubbio che se questo ex giocatore ha la voglia di mettersi in gioco e l'umiltà anche di mettersi in gioco e di cercare di capire con attenzione che cosa sia necessario per portare avanti un progetto tecnico che non è solo un aspetto tecnico ma ovviamente relazionale, determina anche tutta una serie di competenze. Ecco, allora a questo punto ben venga, certo. Filippo, adesso prego la regia di mandare un video su un attaccante che tu hai avuto modo di vedere da vicino, un giocatore straordinario, e ti chiederò come si marca. Come si marca un giocatore così? Te lo dico perché abbiamo estrapolato un bellissimo pezzettino di film di Custunizza legato al più grande numero 10 della storia. Ho già capito. Filippo, a me mette i brividi questa canzone e mette i brividi di vedere lo sguardo di questo calciatore. Io purtroppo sono un empatico, penso lo sia anche tu perché già vedo il tuo sguardo che cambia. Prego la regia di mandare questo piccolo estratto di un capolavoro cinematografico. E non la puoi remediare? 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 E arriva e arriva, la vita è una tombola, di noche e di noche, la vita è una tombola, e arriva e arriva, si io fossero Maradona, viviria come è, circo este è il mio amico, lo che venga a mil por cien, si io fossero Maradona, saldrei a Monte Ovisio, Fa drittare le sala fifa, che io sono il gran ladro, la vita è una tombola, caro Filippo a me mette sempre i brividi, vedere lo sguardo di Maradona, non lo so perché ma penso che Manuciao abbia scritto un capolavoro con un giro di do, non so se così possiamo definirlo, bellissimo, cosa pensi di questo estratto e che ricordo hai del più grande di tutti? È un estratto da brividi, come dicevi tu, perché indubbiamente tocca le corde emotive, ma credo che le tocchi di tutti, di chi ha tifato per Maradona, per le squadre in cui ha giocato, ma credo che chiunque ami il calcio non possa insomma non aver amato Maradona per quello che ha fatto in campo, dopodiché non possiamo, secondo me non si può dividere l'uomo dal giocatore, dall'atleta, e lui sa benissimo, anzi lo dice anche in quel film, pensate se non avessi fatto determinati incontri, quando parla della droga, di tutta una serie di cose, che cosa avrei potuto fare? Io credo che Maradona sia stato il più grande, io almeno per quelli che io ho potuto conoscere e contro cui ho potuto giocare, ma direi che era il giocatore che davvero poteva risolvere da solo la partita, ma lui ha sempre tenuto in grande considerazione la squadra, i compagni, e credo che non ci sia nessuno dei suoi compagni che ne possa parlare male, questo ne certifica la grandezza, perché sappiamo benissimo che spesso, soprattutto oggi, si tende sempre a evidenziare, a portare in palmo di mano colui che risolve le partite, ma poi quando trovi un campione come lui, un fuoriclasse come lui, che invece sottolinea sempre l'importanza dei compagni, credo che ci aiuti a riconciliarci con quello che è il vero spirito del calcio, che è appunto un gioco collettivo, dove chiaramente poi ciò che esalta le persone, la gente, sono le individualità, ma ecco, sono proprio queste individualità che sono ancora più grandi se, quando riescono davvero a portare in superficie e in alto il valore del collettivo, il valore anche dei loro compagni. Maradona dice di essere stata la causa del suo male, io sono Maradona, quindi non posso non avere le difficoltà che ho avuto, e Manu Ciao racconta una cosa bellissima, che la vita è una lotteria, non sai cosa può capitare, però Filippo, osservando anche la tua carriera, e mi permetto anche di farti dei complimenti per una certa serenità e stabilità familiare, che traspare quando parlo con te, si può dire che questo sia quello che manca oggi a tanti ragazzi, cioè sì, si è giovani, si è belli, si è forti, oggi si è anche tatuati, si possono avere tutte le donne di questo mondo, ma tante volte non è proprio la stabilità familiare che ti salva, mi viene in mente Roberto Baggio che ha superato un incidente gravissimo grazie alla moglie Andreina, mi viene in mente Alessandro Del Piero, mi vengono in mente tanti campioni come ad esempio Maldini, che proprio nella serenità degli affetti hanno avuto una grande, grandissima forza. Ma io la metterei così, io credo che un talento, qualunque esso sia, ovviamente consista in una parte genetica, diciamo così, ma poi questo talento davvero per potersi esprimere al meglio e con continuità bisogna fare degli incontri, di avere degli incontri che lo possano in qualche modo guidare, aiutare, accompagnare nel suo percorso. Ecco, credo che questi incontri, quindi le persone che lui trova sulla strada, quindi dall'allenatore, da una famiglia, insomma dagli amici, possono essere qualsiasi, avere qualsiasi tipo di estrazione queste persone, però sono fondamentali poi nel suo percorso. Credo che questo vada anche qui sottolineato e questo ci spiega magari perché qualche talento così in giovane età poi si perde o non riesce ad esprimersi con continuità o come quanto ci si aspettava. E questo poi ci sono anche delle competenze che sono proprio del talento e che il talento per essere tale fino in fondo deve avere, quindi quella capacità non solo di essere bravo a trovare queste persone, a trovare questi incontri, perché poi non è tutto che ti accada così, devi anche avere la capacità di riuscire a capire a chi chiedere aiuto, a chi appoggiarti e questo ne fa la differenza. Quindi poi la resilienza, la capacità di superare i momenti di difficoltà, tutta una serie di aspetti che ripeto fanno parte di quello che noi chiamiamo poi talento, quello che poi si esprime in campo e però pensiamo che sia soltanto un dono, no? Non è solo quello. C'è una canzone bellissima di Paolo Conte che è Genova per noi. Noi la cambiamo perché ci sei tu qui con noi. Milano e Milan cosa sono state e cosa sono per Filippo Galli? Beh, allora io sono milanista da quando avevo cinque anni, per me il Milan è sempre stato mio compagno di viaggio, chiamiamolo così, ho sempre tipato Milan, mi ricordo quando i tempi non erano dei migliori, quando ero piccolino e mi sedevo per sentire, anzi mi sdraiavo a terra per sentire la radio, allora c'era tutto il calcio minuto per minuto, iniziavo se non sbaglio al secondo tempo e quindi quando il Milan perdeva allora spegnevo la radio, la riaccendevo dopo cinque minuti sperando che avesse recuperato il risultato, no? Questo per capirci. Poi ho cominciato ad andare allo stadio con gli amici, anzi prima con gli zii, con i cugini che erano i coloro che mi hanno poi trasmesso la fede, come si scuol dire, e poi ho cominciato ad andare un po' anche con gli amici, andavo con il Milan Club Arco e col Pullman che passava da Villa Santa dove io abitavo. Poi ho avuto la fortuna, quasi diciamo tardi, a 16 anni, di arrivare nel settore giovanile, giocare nella primavera del Milan, dopo una parentesi a Pescara rientrare al Milan 14 anni prima squadra, dopo altre esperienze sono rientrato al Milan come allenatore, collaboratore di Franco Baresi della primavera e poi responsabile della primavera, 9 anni responsabili di settore giovanile, capite che insomma io mi sento parte del Milan, anche se adesso non sono più dal giugno 2018, non sono più all'interno del Milan, però insomma io continuo ad essere tifoso, continuo a sostenere i colori perché li sento parte di me, anche se ho, come tu ben sai, una preledizione per il calcio inglese. Certo, tra l'altro hai vissuto un'esperienza molto bella in un Watford quando ero ai primordi, quando ero ancora una squadra in embrione, quando era un'idea più che una squadra, con questo simbolo particolare, con questi colori sgargianti, cosa ti è rimasta di quella meravigliosa esperienza lì? Meravigliosa penso, dopo che si sta al Milan, penso che non ci sia più nulla di meraviglioso, anche quando si va all'estero, ma parlo anche di esperienza di vita. Io ricordo quell'anno al Watford, io vivevo a Londra, 25 miglia da Watford, dove ci allenavamo a UCL, all'Università di Londra, insomma al vicino, non lontano, anzi adiacente al centro sportivo dell'Arsenal che avevano appena costruito allora. Ricordo una bellissima esperienza che poi mi dava la possibilità, noi giocavamo martedì e sabato perché il Championship, allora quindi la Serie B inglese, giocava con questa cadenza, la domenica c'erano le partite a Londra di calcio da potersi gustare, l'atmosfera del calcio lì è tutta un'altra cosa, insomma era tutta un'altra cosa, ma lo è tuttora, io amo quelle atmosfere ed è stata qualcosa che mi trarrò sempre dentro, anche se è stato un anno tutto sommato deludente perché arriviamo a metà classifica, anziché centrare i play-off per puntare alla Premiership. Sono stato l'anno scorso nel periodo di Natale, ho fatto il giro di campo tra il primo e il secondo tempo di una partita, sono stato una stagione, mi hanno applaudito, mi sono messo a piangere, vuol dire è chiaro che non posso paragonare i miei anni al Milan, ma devo dire grazie a Watford, alle persone di Watford e tutti. Ecco, tu hai giocato veramente con i più grandi, io non oso nemmeno immaginare cosa significa fare la colazione la mattina in albergo con tutti quei campioni, no? Cioè tu che sei anche tifoso del Milan, tu andavi lì sia da tifoso che da calciatore ed è una cosa bella che tra l'altro mi ha detto anche Marchisio, Marchisio in un'intervista ha detto io a volte mi svegliavo in un sogno perché ero titolare nella Juve ma ero tifoso di quei calciatori, quindi era un po' particolare. Mauro ha scritto un libro bellissimo, ho giocato con tre geni, lui ha citato Maradona, Zico e Pelè, quali sono i tre geni con i quali tu sei orgoglioso di aver giocato? È difficile solo tre? Con o contro? Con, con, con. Con, 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 so che è difficile perché sono tanti. No, no, sì, è difficilissimo, però Van Basten, Baresi e Maldini, insomma, dai, quello che siano questi tre, i tre geni, anche se dovrei dire Savicevic, dovrei dire Boban, quel tipo, dovrei dire Donadoni, però insomma, i tre che ho nominato sono tre icone, c'è Gullit, c'è Rijkaard, quanti, quanti... Ricordiamo anche, Filippo, ricordiamo le parole di Fabio Capello dopo la prima corsa di Rijkaard in allenamento. Pensavo che avessimo comprato un ippopotamo e invece era uno dei calciatori più forti dell'Olanda, perché sottolineava questa... Io non me la scorderò mai questa frase. Aveva, aveva un polpaccio che era come la mia coscia, insomma, per capirci. Filippo, in conclusione, si parla spesso di Silvio Berlusconi come uomo politico e noi di politica in questo momento non parliamo, però dobbiamo anche dare merito, e ripeto, la politica è fuori da questo, da questo circuito di domande, di come Silvio Berlusconi abbia dato quel carisma, quella personalità che forse manca ancora oggi ad un grande Milan che è quello di Gazzidis, del fondo Elliot, di Maldini, eccetera, eccetera. In molti ignorano tutto quello che ha fatto Silvio Berlusconi per il calcio italiano ed internazionale. Io penso che sia da studiare quello che è riuscito a creare a Milano, dall'arrivo di Sacchi in poi, dalla scelta di Capello che era un dirigente di Fininvest. Io penso che non capiterà mai più nel calcio mondiale una figura così. Non so se non capiterà più, certamente è stato un innovatore, ha portato una mentalità aziendale all'interno di un club di calcio, ha saputo mettere tutti i giocatori nelle condizioni di pensare solo all'allenamento, alla partita, non facendo mancare nulla. Ha cominciato a creare uno staff partendo dall'allenatore, come dicevi tu, da Sacchi, che anche lui è stato un innovatore. Poi dopo quando Sacchi è stato esonerato è arrivato a Capello, che aveva fatto anche un tirocinio, chiamiamolo così, all'interno del gruppo Fininvest dal punto di vista dirigenziale. Tutta una serie di scelte, sia tra giocatori, sia tra dirigenti, insomma ovviamente Gagliani, Braida, non dimentichiamoli che hanno fatto sì che, come spesso accade, dobbiamo pensare in maniera sistemica. Credo che lui sia riuscito a fare questo e a fare in modo che tutto funzionasse e si integrasse nella maniera giusta perché poi il risultato fosse più della somma delle parti. Io ricordo sempre le parole di Gattuso, che ripeto, per me rimane una delle persone migliori che possano esistere nel mondo del calcio, una delle persone più genuine pure, che ti dà veramente l'anima, quando uno dice l'anima lui te la dà veramente e ti dice anche se ti serve dell'altro. Ha detto Alvise, quello che c'è di più bello al Milan è che al Milan, o almeno quando c'ero io, io giocavo realmente con delle persone che erano come parte della mia famiglia. creare quell'involucro sentimentale è un qualcosa di meraviglioso. Qualsiasi club è destinato a vincere se ogni giocatore si sente parte di una famiglia. Sì, c'è sicuramente del vero in quello che dice Rino. Io, quello che mi colpì, soprattutto all'inizio, fu una grande, come posso dire, attitudine al lavoro da parte di quel gruppo. Tanto è vero che tutti coloro che arrivavano, anche da fuori, che erano considerati dei fuoriclasse, hanno secondo me attinto molto da questa mentalità, da questa attitudine, che poi ci ha permesso ovviamente, visto il talento, visto le qualità che c'erano rispetto ai giocatori di ottenere risultati incredibili e soprattutto di mantenerli nel tempo. Ecco, perché poi vincere magari è più facile, ma mantenersi ad altri livelli non lo è certamente. Filippo, io ti ringrazio per questa chiacchierata con noi. Grazie a te, grazie a voi Alvide, è stato un vero piacere. E penso, Filippo, te lo dico col massimo della disinvoltura, che il mondo del calcio dovrebbe poggiare su persone che sono in grado di comunicare con pacatezza come te. Io penso che si debba tornare a ragionare di calcio, a parlare di calcio a bassa voce. Dobbiamo andare un po' a controtendenza. No, lo penso anch'io, sicuramente essere un po' più riflessivi, la riflessione sia importante, l'ascolto, come dicevo all'inizio, sia importante. Io, come hai detto tu, mi occupo di giovani, di settore giovanile, anche se adesso sto lavorando per la federazione in abito formativo, sempre a favore dei giovani o di coloro che si occupano di settore giovanile, quindi di giovani. Per me i giovani hanno delle risorse importanti. Ero proprio stamattina, tra l'altro, con Don Mazzi in una trasmissione online voluta da Don Mazzi. Insomma, i giovani di oggi non sono peggiori dei giovani di allora, quando noi eravamo giovani. Solo dobbiamo ascoltarli di più e dobbiamo dargli più opportunità. Quindi uniamoci. Io non sono per dividere, ma sono per unire. Quindi uniamoci tutti per dare un futuro ai nostri ragazzi. Grazie ad una delle colonne del Milan. Grazie a Filippo Galli. Grazie alla regia. Grazie ai tecnici di studio, al gruppo editoriale Distante, al nostro editore, all'assistente di studio che ricorda Sacchi quando entra così e mi dice che sono lungo. E grazie a voi che rendete tutto questo possibile. Ovvero voi spettatori, alla prossima!